ciao a tutti e benvenuti in questo quinto e ultimo video relativo al geopackage in questo tutorial vedremo come inserire all'interno del geopackage il file di progetto quindi sia QGS che QGZ in maniera tale quindi di avere un unico file che contiene oltre ai layer vettoriali raster come dicevo anche il file progetto di QGS andiamo quindi a caricare il nostro file di progetto quindi apri progetto dati comunali QGZ ecco come vedete anche dal pannello dal browser vedete che il file di progetto è all'esterno ovviamente geopackage nel mio file geopackage ho tutti gli elementi comuni CTR rette canali rette stradali che ho caricato qui all'interno di questo file progetto come faccio quindi a caricare a salvare il file di progetto all'interno del geopackage stesso non faccio altro che andare in progetto salva su geopackage scelgo il geopackage quindi il nostro dati comunali e metto qua il nome del progetto quindi diamo analisi comune ok come vedete il file di progetto analisi comune è stato inserito all'interno del mio geopackage quindi per aprire il file di progetto all'interno del geopackage ho due possibilità o tranquillamente dal pannello browser dove ho il mio dati comunali non faccio altro che prendere il file di progetto e trascinarlo come vedete lui apre completamente il mio progetto o altrimenti posso farlo anche da progetto apri da geopackage vado alla ricerca del mio file geopackage lui si accorge che all'interno c'è un file di progetto analisi comune ok e me lo carica quindi capite bene le potenzialità che ha il geopackage con anche il file di progetto all'interno proviamo un attimo a fare una comparazione con la modalità standard e quella geopackage se io avessi da dare a una terza persona o condividere con un'altra persona via email o via chiavetta avrei dovuto dare nella prima modalità shape file diciamo avrei dovuto dare il file qgs i file all'interno quindi sia vettoriale che raste e anche i file di gistile quindi magari il qml e il file ir quindi capite quanti file devo trasferire complessivamente inoltre ovviamente devo stare attento anche alla posizione della path della cartella mentre col geopackage qui noi abbiamo un solo ripeto un solo file gpkg e all'interno ho tutto file di progetto file stili layer o meglio ancora layer vettoriale o raste con i propri stili quindi un unico file che posso trasferire copiare in maniera veloce quindi ripeto le potenzialità del geopackage sono enormi bene chiudo qui questo quinto e ultimo video spero che questa guida completa sul geopackage sia stato di vostro interesse e vi aspetto per i prossimi video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti